Il film di Conte è il primo, il primo della campana che verrà superato tra pochi istanti da piccoli campanerati che ha una pochia quantità preso via. Sul prossimo traguardo però, tra i dettagli, non si vittiveranno già scendere anche i primi punti vanno per la persona che non si può fare. Calma, calma, che lungo! Al termine. Tra i 15 i giri alla conclusione, vedremo più confusate, più punti volanti. Dovremo ancora due punti, la concorrente 5 è di Tessetti, questa volta Lara, qui sale a 4 punti totali, 1-1, la concorrente 235 e Viola Brantilla, questo è il primo punto in questa zona. Siamo in prossimità, dobbiamo dire che non ho concordi. Quale è il mio punto che la concorrente non ha 20 uomini? Cara, non ho 20 uomini, non ho 20 uomini, non ho 20 uomini, non ho 20 uomini. Ehi, ehi, dove vai? 13 giro a termine, si viva 5 alla nottora con questi allonghi. Guardate da due punti, la concorrente 152, Pironi in genita, la concorrente 178, Venti in aria. 12 giro a termine, la concorrente 152, Pironi in genita, la concorrente 152, Pironi in genita, la concorrente 152, Pironi in genita. E non funziona la concorrente 152, Pironi in genita, la concorrente 168, Venti in aria, che si porta a 1-2, Pironi in genita. Il Pironi in genita, la concorrente 152, Pironi in genita, la concorrente 152, Pironi in genita. La danna dei punti, la concorrente 21, Pironi in genita, la concorrente 21, Pironi in genita, la concorrente 3. Un punto 9, la concorrente 5, 60, Venti in genita, ne aveva 1, sale a quota 2 punti conquistati. Questo dopo aver superato il Pironi, la concorrente, la concorrente 4, Pironi in genita, la concorrente 5, Pironi in genita. e tranne 30 in questa gara 9 inizioni al termine, attenzione a 3, 9 alla confusione ripete l'analogo situazione del passaggio di Gedele 8 g alla confusione 3, 9 alla confusione 4, 9 alla confusione 4, 9 alla confusione anche per chi l'aria gli allarghi e calcati stanno arrivando verso la fine di questa prova la concorrente del 562 vai a provare la confusione la legna a tutti la legna a 2 la legna a 315 a specializzare la legna a 1 la legna a 420 1 lo guadagna la legna a 430 la legna a 1 la legna a 420 sono 13 a 3 con i punti che vale la loro al 5 per cui sono tutte raccolte lì c'è posto solo per 10 nella finale guardate le punti la concorrente 5206 avessi accanto lì sono a 440 noi lo guadagna la concorrente l'ombra di un punto l'ombra di un io lo so si porta a 420 le punta a 4206 è il nostro è il nostro appoggio per noi tutta l'ombra di un con i punti le punta per le due spalle per le due e per il se ne ha altri quattro quanti altri 440 quanti 2 e il calcio caro aveva 4 sale e accuoto 5 punti confuscati. Siamo in una prossima fase dell'ultimo giro, ancora nello stile della campana, non c'era tutti tutti i rapporti dell'ultimo giro, ma dopo tutti i punti si raccoglie il nostro posto ultimo passaggio e gli ultimi punti volanti. I governi allora avevano due punti, ancora la concorrente numero 21, si toglie nulla e aveva 9 a mancare il casino, con un dici punto, un punto, la concorrente 152 per la schiena, e dai 5 di più possono soddisfatto a 6 setti. Come detto, abbiamo più i creditori a tutti. Insolamente per le prime 10 singole azioni finali, quindi devono veramente visitare al meglio l'ultimo giro e lavorare sul traguardo finale, si vogliono rientrare nella... Parte la prova anche per questa seconda semifinale, sfida della campana e passaggio, sul traguardo del meno 17. Già, al prossimo traguardo, assumeremo punti vari, sul traguardo del meno 15, questo in paio, questo è la presa, questo in paio per tutti voi. Punti, 16 al termine. Ha guadagnato due punti, la concorrente è un'ora 5 la parte 2, la giuridata, e ha guadagnato uno, e ha guadagnato due punti. La concorrente è un'ora 5 la parte 2. Siamo a 15 dalla conclusione, tra punti. Punti, vanno alla sua corrente numero 8, secondo punto la sua corrente è un'ora 5 la parte 2. del re forza. 14 giri alla conclusione, per apporturare gli attenzionati. Punti, la scottolta, il re forza. La scottolta è un'ora 5 la parte 2, la scottolta è un'ora 5 la parte 2. Siamo a 4 la parte 2, 2 punti conquistati fino a questo momento della gara, saranno 13, i giri al termine sul prossimo Ero, a guadagnare 2 punti la concorrente numero 33, Negri Sara, il gruppo elettro di 236, Pirola, Sussi, Navida, sale a cuota, 12 alla conclusione sul prossimo traguardo, a lungo portato la 133, Negri Sara, che aveva 2 punti, ha conquistato anche 3, In un punto lo guarda la concorrente 176, Lannarelli, Giorgia, Aviva, il punto sottile, si porta a cuota, 2 punti conquistati Stiamo avvicinando gli onesti giri dalla conclusione, il ritaglio, attenzione a trete e dai miei defunti la concorrente 33 di Grisara la viva 4 ed in seguida lo conquista la concorrente 440 Canella Pesiglia e conquista il suo primo punto allo giardimento di questa guada 10 alla confusione per la concorrente e dai miei defunti la concorrente 176 di Maraghi Giorgo nelle vadole c'è la cuota 4 e la concorrente 113 in cuore Ginevra il suo primo punto conquistato in questa gara modo al termine sul prossimo traguardo due punti si riconquista la concorrente 164 di Maraghi Giorgo che la sua inglese è la sua inglese per la scuola e il suo primo punto in questa gara ed in un punto lo conquista la concorrente 440 Canella Ciccivisiano e Donatoio come sono un po' da due siamo 8 giri dal termine con questi due punti su questo passaggio la concorrente con le 5 e 40 Zavella Sicilia aveva due punti estettivo tra la quota 4 la concorrente 5 e 64 Dicanor Giulia aveva due punti e si porta a quota 3 punti traguardo al numero 7 guadagna due punti la concorrente 236 Tirola Sottini aveva 3 e sarà a quota 5 e due punti lo guadagna la concorrente 166 Dicanor Giulia aveva 4, si porta a quota 5 punti conquistati poi c'è lì alla conclusione a tutti i validi ripeto l'analogo a situazione del passaggio la concorrente portando due punti alla concorrente 226 Tirola Sottini aveva 5 che si porta a quota 7 e due punti lo guadagna la concorrente 166 Iannare di Giorgio neveva 5 e sarà a quota 6 punti conquistati guadagna le punti la concorrente 176 Iannare di Giorgio ha 8 punti conquistati un punto lo domanda la concorrente numero 113 di Ginebra Manicone aveva un punto con questo e sarà a quota 2 questo dopo aver superato il passaggio di 5 termini a 4 fine la concorrente della concorrente di Validi per la testa della gara di Amici che sta comprato quindi in questo stato guadagna le punti la concorrente 176 Iannare di Giorgio neveva 8 sarà a quota 10 e la concorrente della concorrente e la concorrente della concorrente la concorrente della concorrente la concorrente della concorrente 3 Gili alla conclusione e ancora punti validi sull'altra giardo Giorgio neveva 8 guadagno le punti la concorrente numero 8 della concorrente e la concorrente totali la concorrente giù se ha fatto il Plus qualche termine le punti Giorgio anarelli 7 punti Birolas 6 punti Mignisara sui punti troviamo la terra di un'altra domanda guadagna ancora due punti la concorrente numero 8 corabili alle 5, pensi alla scuola sesto 2 punti la vera che corrente 566 e Anna Redditoria che si porta a portare il processo a 2.10 quello della campana ultimo giro naturalmente per la testa della gara via via la musica, pensare di gestione atleta. Grazie. Grazie.